Io faccio il blog da tre giorni, sono un giornalista di professione sospeso dall'ordine per otto mesi, quindi adesso faccio il blog, se no ho purtroppo una situazione particolare. Mi limito a far vedere la magia, la prima volta che vedo un banchetto della LAV, vi faccio enormi complimenti, mi spiace tanto perché vi avrei chiesto la cortesia di raccontarmi la LAV o almeno il vostro lavoro o quello che volete, ma purtroppo devo spina, meraviglioso. Chiedo scusa con imbarazzo, magari prendo accordi con l'ufficio stampa per fare qualcosa da blogger in remoto. Ammirazione, sono Vanni Zagnoli, Polneo, buonasera.